In Pardigliano ci sta qualcuno che ha raccolti i rifiuti, questi rifiuti come li avete raccolti, come li avete trovati? Li ho trovato tutte le bottiglie a terra, sacchetti... Cioè voi avete raccolti i rifiuti di altre persone che hanno lasciato a terra... Sì, che lasciano dappertutto, spottizia, bottiglie, tutto quello che possono lasciare per l'estate... Il comune di Vigola ha visto, ha visto qualcuno? No, non ho visto nessuno... Ha visto Vigili, qualcuno operatore, niente, nessuno... E avevi detto che ci sono anche altri rifiuti sotto? Altri rifiuti avete visto sotto? Sì, ho visto dei fusi di roba chimica, proprio a dieci metri prima, quasi alla fine... Stanno tutti... stanno un po' scato, però... Dieci metri qua sotto? Sì, sicuramente roba chimica... Roba chimica, assoluto...